Continua il cammino della San Cataldese nel girone I di Serie D. Dopo la preziosa vittoria contro la Mezzeterme, la squadra di Infantino si appresta a fare vista alla Cireale nella partita in programma domenica prossima 5 febbraio alle 14.30 allo Stadio Comunale Aci e Galatea. Per la San Cataldese l'occasione di dare continuità all'ottima prestazione di domenica scorsa, mentre per la Cireale l'obiettivo sarà riscattare la deludente sconfitta patita con il Castrovillari. Intanto continua il monologo del Catania, primo in classifica a 14 punti dall'Ocri secondo in un girone appassionante in cui la squadra Verdamaranto sta dimostrando la virtù del percorso intrapreso la scorsa estate. Questo è il programma completo della ventiduesima giornata del campionato di Serie D, girone I. Domenica 5 febbraio alle 14.30 Canicattì Santa Maria Cilento, Castrovillari-Catania, città di Acireale-San Cataldese, cittanovese Trapani, la Mezzia Terme-Realla Versa, l'Ocri-Licata, Mariglianese-Vibonese, mentre Paternò-San Luca e città di Sant'Agata-Ragusa saranno disputate alle 15.00.